Musica Sabato 8 dicembre festa dell'Immacolata ben ritrovati con la nostra informazione l'informazione era già trapelata qualche settimana fa però da ieri sera c'è l'ufficialità la Calabria, la sanità calabrese ha un nuovo commissario e un nuovo subcommissario vediamo chi sono nel nostro prossimo servizio Saverio Cotticelli e Thomas Schael sono ufficialmente il nuovo commissario e subcommissario ad acta per la sanità in Calabria nell'ultima seduta il Consiglio dei Ministri ha approvato la loro nomina confermando le anticipazioni di qualche settimana fa l'annuncio l'ha dato il Ministro della Salute Giulia Grillo parlando di nomine cruciali per un territorio che non ha solo difficoltà di bilancio ma soprattutto non riesce a dare ai cittadini il livello di servizi sanitari che la legge richiede Legalità, trasparenza e competenza per la salute dei cittadini ha scritto su Facebook riferendosi alle doppie nomine di Calabria e Molise i commissari sono figure di garanzia che incarnano i valori di competenza onestà e trasparenza per gli incarichi di subcommissario ho scelto invece personalità di chiara fama e competenza nella gestione della sanità pubblica le personalità designate hanno tutti i requisiti per fare un buon lavoro lavoreremo a stretto contatto e tra sei mesi valuteremo i risultati i cittadini hanno diritto ad una sanità migliore e da servizi efficienti Coticelli è un generale dei carabinieri con una significativa esperienza nel settore per essere stato alla guida dei NAS il nucleo antisofisticazione dell'arma che si occupa proprio di tutela della salute dei cittadini ha inoltre comandato la regione carabinieri Piemonte e poi Lazio fino a quando nel 2015 ha lasciato l'arma per assumere diversi incarichi di governo nel suo nuovo incarico di commissario della sanità calabrese subentra Massimo Scura che ha ricoperto lo stesso ruolo dal marzo 2015 Thomas Scheil già direttore dell'ASP di Crotone ai tempi della presidenza di Agazio Loiero andrà invece a ricoprire il posto rimasto vacante dopo le dimissioni del subcommissario Andrea Urbani nell'agosto del 2017 è stato archiviato in via definitiva il procedimento penale a carico del sindaco di Cortale Francesco Scalfaro posto agli arresti domiciliari nello scorso mese di luglio nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla DDA di Reggio Calabria denominata Via Colvento su presunti interessi dell'andrangheta nella realizzazione di alcuni parchi eolici in Calabria l'archiviazione è stata decisa dal GIP di Lamezia Terme in accoglimento della richiesta avanzata dalla stessa procura la metina qui là DDA Regina aveva trasmesso per competenza il fascicolo sulla posizione del sindaco Scalfaro già il tribunale del riesame di Catanzaro ad agosto aveva accolto la richiesta di revoca dell'arresto di Scalfaro che era stato rimesso in libertà e anche reintegrato nella sua carica di sindaco al primo cittadino veniva contestato un episodio di corruzione per cui avrebbe ottenuto l'assunzione di un operaio in cambio di agevolazioni da parte dell'amministrazione comunale per l'esecuzione di un parco eolico è accusato di aver adescato alcuni minorenni sui social per poi incontrarli di persona ed abusare di loro sessualmente un operaio della provincia di Reggio Calabria è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale sui minori prostituzione minorile, stalking e detenzione di materiale pedopornografico le indagini che sono state svolte dalla Polizia Postale delle Comunicazioni hanno rilevato numerosi casi in cui l'uomo dopo aver adescato sui social alcuni minorenni li induceva a mandargli delle immagini intime e compromettenti per poi minacciarli, ricattarli e chiedere loro degli incontri nei quali consumare atti sessuali l'indagine ha avuto inizio quando una delle vittime dopo aver subito forti pressioni dall'indagato ha deciso di denunciare la situazione e rivolgersi alla Polizia Postale andiamo adesso a Catanzaro Lido dove si è svolto un sit-in per richiamare l'attenzione sulle condizioni di grave degrado del quartiere di Viale Isonso Un quartiere fortemente degradato i cui abitanti lamentano mancanza di illuminazione di interventi sulla viabilità di servizi con le fogne e la raccolta dei rifiuti per richiamare l'attenzione sui problemi atavici di Viale Isonso a Catanzaro alcune associazioni che operano sul territorio hanno indetto un sit-in nel quale hanno messo insieme cittadini ed istituzioni per parlare ancora una volta dello stato di degrado di quest'area Oggi siamo qua come movimento civico per sostenere la battaglia della parte sana di questa comunità che sicuramente è stata completamente abbandonata dall'istituzione sia dall'amministrazione comunale sia dall'Ater perché è proprietario degli immobili e qui c'è veramente una situazione di degrado che deve essere affrontata una volta per tutte non bisogna abbandonare questa che è una realtà importante della città di Catanzaro Speriamo che non solo oggi che magari in virtù di questo sit-in sono stati fatti dei piccoli interventi che questi interventi siano fatti come dovuto da capitolato dalla gara di appalto del comune di Catanzaro e che vengono eseguiti con una certa normalità per garantire almeno l'ordinaria questa cittadinanza Ad aggravare la situazione è arrivato anche il provvedimento con cui il governo centrale ha sospeso il bando periferie costringendo la città di Catanzaro a bloccare interventi per 18 milioni di euro La concentrazione è molto sui problemi strutturali del quartiere quindi le fogne, le strade e così di questo tipo però abbiamo anche una piccola ambizione ed è quella di portare questa istanza anche su un piano nazionale anche perché in particolar modo in questo quartiere e sulla struttura che vedete alle mie spalle avvigeva un finanziamento da parte del governo nazionale cosiddetto finanziamento sulle periferie la città di Catanzaro aveva ottenuto 18 milioni di euro di finanziamento avrebbe previsto la riqualificazione non solo del quartiere di Via Lisonzo ma anche Pistoia e Aranceto purtroppo il governo ha bloccato questi fondi per cui la prima invocazione che facciamo è al governo nazionale affinché sblocchi questi fondi per le periferie che interessano circa 100 capologhi di provincia a livello nazionale per cui potremmo osare dire tutte le province d'Italia Al sit-in era presente anche l'assessore comunale ai lavori pubblici Franco Longo l'attenzione sulle questioni che riguardano Via Lisonzo dice c'è ma anche i cittadini devono fare la loro parte più volte ci siamo interfacciati con l'ATERP finalmente siamo riusciti per competenza ad eliminare tutte quelle fuoriuscite di liquame che attraversavano sia i cortili che le strade quindi da qui a breve possiamo finalmente eliminare quegli convenienti che riguardano la sede stradale più volte siamo intervenuti per togliere tutto quel materiale che quotidianamente gli abitanti di Via Lisonzo buttano e quindi si creano delle vere e proprie discariche tant'è che proprio avanti anni hanno fatto togliere uno e stamattina è di nuovo là Zero glutine la pizzeria e pasticceria di Reggio Calabria distrutta da un incendio doloso circa due settimane fa ha ripreso la sua attività sia pure naturalmente in parte in un temporary store concesso fino al 10 gennaio prossimo dal comune di Reggio Calabria si tratta degli spazi dell'urban center di proprietà appunto del comune di Reggio Calabria in cui i proprietari del locale distrutto ovviamente non potranno produrre i loro prodotti perché è privo di un laboratorio però potranno vendere prodotti senza glutine per i loro clienti storici intanto per provare a rimettere in piedi l'attività distrutta libera ha indetto una campagna di raccolta fondi è in corso a proposito di raccolta fondi una raccolta fondi per l'ospedale dell'Annunziata una stanza attrezzata per il controllo continuo dei bambini affetti da epilessia da realizzare proprio all'interno dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza è il progetto avviato dalla fondazione con il cuore, il nostro servizio una stanza attrezzata per il controllo continuo dei bambini affetti da epilessia presso l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza è questo il progetto avviato dalla fondazione con il cuore associazione nata per sostenere la ricerca nella lotta contro il cancro e dal gruppo ospedaliero Marrelli Health con la collaborazione della Federazione Italiana delle Tradizioni Popolari le risorse proverranno da una raccolta fondi ovvero dalla vendita al prezzo simbolico di 15 euro di braccialetti in argento realizzati dall'orafo crotonese Michele Affidato con il ricavato si intende realizzare un sistema dotato di un'unità digitale di registrazione elettroencefalografica e di una videocamera ad alta definizione con illuminatore a raggi infrarossi in sostanza si tratta di tenere sotto stretta osservazione grazie al controllo remoto i bambini affetti da epilessia al momento una struttura del genere non esiste in alcun ospedale calabrese come fa notare il direttore dell'unità operativa di pediatria Domenico Sperlì l'obiettivo principale di questo servizio è quello di consentire una registrazione contemporanea delle manifestazioni cliniche e dell'attività elettrica cerebrale cioè di un elettroencefalogramma i vantaggi di questa metodica possono essere sintetizzati primo nella possibilità di registrare in maniera continua l'attività elettrica cerebrale e contemporaneamente di visualizzare su un monitor i movimenti del bambino una registrazione che può durare da alcune ore a più giorni e che quindi si differenzia dall'elettroencefalogramma standard che consente una registrazione in quel momento mentre i fenomeni potrebbero verificarsi anche in momenti diversi e quindi è necessario una registrazione protratta nel tempo La Calabro Dental, struttura che abbina l'eccellenza dell'attività clinica nel settore odontoiatrico e maxillofacciale con l'attività di formazione e ricerca metterà gratuitamente a disposizione dei pazienti disabili il suo servizio di diagnosi e terapia come spiega il direttore sanitario Massimiliano Amantea Oggi abbiamo sottoscritto un'intesa con l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza i pazienti afferiscono già da fuori regione e anche da fuori provincia ma aver ufficializzato questa intesa con l'ospedale di Cosenza con il dottore Sperlì, il primario di pediatria dello stesso ospedale per noi è un motivo di orgoglio, di prestigio ma nello stesso tempo anche di dimostrazione che piccoli tasselli, piccoli cambiamenti nella interazione tra pubblico e privato si possono fare nell'ottica di gestire bene il paziente curarlo e poterlo trattare nel migliore dei modi ed evitare quello che è il viaggio della speranza Per la ONLUS nata in Calabria che ogni anno si dedica a un progetto specifico quella di aiutare i piccoli malati di epilessia è quasi stata una scelta obbligata si tratta infatti di una malattia che presenta un'alta comorbilità e influenza negativamente il sistema cardiovascolare le due presidenti della fondazione con il cuore Sabina Ceccacci e Serafina San Marco obiettivo dell'intesa è appunto quello di elevare il livello di assistenza e consolidare la collaborazione fra specialisti nell'interesse dei pazienti Le guardie del WWF hanno recuperato in Calabria la carcassa di un lupo che probabilmente potrebbe essere stato avvelenato dopo aver allertato i carabinieri forestali e le autorità sanitarie competenti hanno trasferito la carcassa del lupo all'istituto zooprofilattico di Catanzaro per definire le cause della morte è stato un venerdì nero per la natura scrive l'associazione che in Italia ha subito la grave perdita della scomparsa di tre animali che appartengono a specie particolarmente protette e che hanno bisogno di forte tutela il riferimento oltre al lupo ritrovato morto in Calabria è ad un orso bruno ucciso da un cacciatore in Slovenia poco dopo aver varcato il confine all'aquila reale trovata invece morta nel Parmense come ormai tradizione anche quest'anno l'Unitalsi nel giorno dell'Immacolata si ritrova nelle piazze di tutta Italia per la vendita delle stelle di Natale anche la sottosezione di Crotone si è riunita nella centralissima piazza Pitagora con dame, barellieri e volontari per vendere le classiche piantine a questo appuntamento che si riferiscono le immagini che state vedendo un appuntamento fisso al quale i crotonesi non soltanto rivolgono le offerte e le donazioni come sempre il ricavato delle vendite andrà a ciascuna sottosezione per le attività che vengono svolte annualmente non solo quelle ricreative per gli ammalati ma anche quelle che riguardano i pellegrinaggi al santuario di Lourdes Infine una nota di calcio decisamente particolare probabilmente il primo caso in Italia in cui avviene una cosa del genere il prefetto di Catanzaro Francesca Ferrandino infatti su richiesta del questore Amalia Di Ruocco ha disposto il divieto di svolgimento dell'incontro di calcio tra Catanzaro e Viterbese in programma per mercoledì prossimo 12 dicembre il provvedimento e qui sta la novità assoluta è stato adottato per motivi di sicurezza in considerazione del fatto che in contemporanea con la partita è in programma l'udienza preliminare del processo di indrangheta scaturito dalla inchiesta Stige che vede imputate 188 persone l'udienza si terrà nell'aula bunker che si trova proprio accanto allo stadio Ceravolo di cui i problemi o comunque la necessità di evitare eventuali problemi e vietare l'incontro di calcio per noi era l'ultima notizia grazie per essere stati in nostra compagnia arrivederci grazie a tutti grazie a tutti